Romania, lezione di geografia. Utilizziamo le slide realizzate da un'alunna Larisa Jura. Possibile che sia un'alunna di origine rumene, è bellissimo comunque, diciamo, sollecitare gli alunni che hanno magari un genitore o altri parenti in famiglia in paesi, diciamo, stranieri, realizzare magari un lavoro, una ricerca, un approfondimento per recuperare anche le loro stesse radici. L'inno nazionale rumeno è stato composto nel 1861. Pensate, è stato l'anno in cui si è creato lo Stato d'Italia, il Regno d'Italia. In quegli anni, infatti, i rumeni stavano cercando di diventare indipendenti dai turchi. Ci riuscirono 17 anni dopo, nel 1878, e quindi due rumeni composero l'inno rumeno. La bandiera l'abbiamo già vista all'inizio, è una bandiera tricolore, con tre fasce verticali, una blu, al centro gialla e a destra rossa, uguale a quella della Moldavia, solo che la Moldavia ha uno stemma in mezzo. La Romania fa parte dell'Unione Europea. Come si vede dall'immagine, però, non fa parte dell'area euro. In Romania non si usa l'euro, ma una moneta locale. Infatti, la moneta locale è l'Eurumeno. La Romania è entrata nell'Unione Europea nel 2007. Ecco una cartina fisica della Romania, dalla quale possiamo intuire i confini della Romania. La Romania confina a nord con l'Ucraina, ma anche un pezzo di Ucraina, lì nella zona dell'est del Mar Nero. Poi confina ancora ad est con la Moldavia, ha uno sbocco sul Mar Nero, con la bellissima città portuale di Costanza. Poi a sud confina con la Bulgaria e ad est confina con Serbia e Ungheria. La capitale della Romania è Bucarest, è il maggior centro industriale e commerciale ed è la città più popolosa. Altre città importanti sono Timisoara e Costanza sul Mar Nero, che è il porto più importante. Timisoara, ahimè, la ricordiamo anche per una dura repressione che c'era stata durante il regime comunista. Ribadiamo i confini. Abbiamo già detto che la Romania confina ad est con la Moldavia, a nord con l'Ucraina, a nord-ovest con l'Ungheria, ad ovest con la Serbia, a sud con la Bulgaria e si affaccia sul Mar Nero. Nei pressi del Mar Nero riconfina di nuovo con l'Ungheria. Bucarest, la capitale, è caratterizzata da imponenti edifici e grandi piazze. Questo ad esempio è il Parlamento. Da adesso in poi altre slide che ci presentano, ad esempio, grandi piazze, di Bucarest, i Monti Carpazzi. Ecco, il territorio infatti della Romania è in gran parte montuoso. La catena montuosa dei Carpazzi termina nel tratto montuoso delle Alpi Transilvaniche. Transilvania, ne parleremo ancora nel corso di questa spiegazione. Il flume più importante della Romania è il Danubio, che sfocia nel Mar Nero. Il Prut, affluente del Danubio, segna i confine con la Moldavia. Il clima della Romania. Beh, insomma, abbastanza continentale, con inverni freddi ed estati calde. Però le temperature sono più miti le escursioni termiche minori lungo le coste del Mar Nero. L'economia. La coltivazione più importante della Romania è il mais. L'industria può contare su ricche risorse, il petrolio della Vallacchia, il gas naturale della Transilvania. Il personaggio storico più famoso della Romania è il principe Vlad III, che poi ha ispirato Dracula. Infatti, nel 1897, Bram Stoker pubblicò il romanzo Dracula, tratto dalla leggenda di Vlad III. Iniziò così la letteratura vampiresca del vampiro. Dracula era detto un impalatore, perché usava impalare i nemici con un palo di legno. Questo avvenne durante l'invasione dei turchi nel 1431. Non riuscì comunque a impedirla questa invasione. Il personaggio di Dracula ha contribuito allo sviluppo del turismo rumeno. I castelli della Transilvania e della Vallacchia sono infatti tra le mete più visitate del paese. Altri luoghi di interesse turistico sono le regioni lungo il Danubio e le coste del Mar Nero. Le tradizioni. I rumeni sono soliti indossare i costumi tradizionali durante feste e matrimoni. I piatti tradizionali sono, ad esempio, quelli che potete qua osservare. Una torta cu cioccolata e un mici. che deve essere una specie di, come potrei definirlo, di polpetta allungata di carne. Parliamo un po' della storia della Romania. Qualcosa l'abbiamo già detto riguardo all'invasione dei turchi nel XV secolo e alla liberazione e quindi l'indipendenza della Romania nel 1878. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Romania, che era stata alleata dei nazisti addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale, ma era stata poi liberata dall'armata russa, entra nell'influenza sovietica. Si instaura pertanto un regime, un governo comunista particolarmente tirannico ed inefficace da un punto di vista, ad esempio, economico. Quindi, dopo vent'anni della dittatura di questo capo segretario, diciamo, del partito comunista rumeno, Cea Osescu, nel 1989 la Romania si è liberata della dittatura con una rivoluzione. dal 1991 la Romania è una repubblica democratica, con un presidente e un Parlamento eletti direttamente dal popolo. Certamente, diciamo che questa neonata democrazia si è trovata a dover fronteggiare una situazione economica di forte arretratezza. Ci sono stati progressi, soprattutto poi nel nuovo secolo, quindi nel nuovo millennio, che però sono stati rallentati dalla crisi degli ultimi tempi.